Questi alberi raccontano la storia della mia famiglia. È una tradizione che ho voluto continuare io diventando imprenditore, per dare alla nostra azienda nuovi mezzi e nuove opportunità. Per diventare imprenditori agricoli del futuro abbiamo chiesto aiuto agli anziani e grazie ai loro racconti abbiamo recuperato un metodo di coltivazione integrato con la natura e con il territorio. Ho scelto di proseguire la tradizione di famiglia con l'obiettivo di creare un'azienda agricola tecnologicamente all'avanguardia in modo da garantire una migliore qualità e valorizzare i prodotti del territorio. Dalla terra ho imparato tanto e questa è la filosofia del mio progetto. Un orto naturale e un giardino terapeutico per aiutare le persone stressate, i disabili e i bambini. Una sorta di giardino per la cura e della cultura. L'esperienza con Rural Trainer è servita a chiarirmi le idee dal punto di vista imprenditoriale, dandomi degli strumenti importanti per lo sviluppo del mio progetto. Ho ricevuto supporto per valutare al meglio la mia idea di impresa. I seminari Rural Trainer ci hanno aiutato a focalizzare i punti di debolezza da rinforzare e quelli positivi da integrare. Il supporto degli esperti è stato fondamentale per ridefinire e ottimizzare la mia idea progettuale attraverso un'attenta analisi dei costi da affrontare, del mercato sardo e nazionale, delle realtà concorrenti e di un possibile piano di marketing. Inizialmente avevo un'idea sbiadita del progetto e sia durante il corso che durante il tutoraggio ho potuto individuare le priorità, individuare le attività da svolgere concretamente e analizzare il mercato. Del progetto Rural Trainer ho apprezzato l'approccio pratico e ricco di esempi dei seminari. Il poter conoscere imprenditori di successo e le loro storie. Abbiamo apprezzato la grande competenza degli esperti. E la loro disponibilità sia in campo professionale che umano. Ci sentiamo certamente più preparati sotto molti aspetti organizzativi, di pianificazione e di marketing. Oggi mi sento un'imprenditrice forte, competente e strutturata. Non ho mai smesso di credere in questo progetto, intorno al quale sto creando un'equipe di professionisti. Personalmente mi sento pronta ad affrontare un'attività imprenditoriale in uno scenario agricolo profondamente mutato rispetto al passato, sia dal punto di vista produttivo che commerciale. Il progetto Rural Trainer è un servizio fondamentale che guida i giovani allo sviluppo della propria attività imprenditoriale. Un servizio che produce sinergie creando rete tra noi imprenditori. Per aiutare e guidare i giovani nella costruzione della propria impresa agricola. Se vuoi diventare un imprenditore agricolo del futuro, partecipa a Rural Trainer. Grazie a tutti.